Sono spiriti appassionati, sono spiriti che sicuramente ci vedranno come Governo al fianco o anche al suo lavoro di questa attività. Noi pensiamo fortemente che la formazione sia determinante per chiare qualificazioni sul personale, pensiamo che il lavoro dignitoso è sicuramente uno degli obiettivi del nostro contratto con il 5 Stelle Lega e crediamo fortemente che con la decorazione anche dell'efficienza dei servizi per il lavoro possa far sinergere in modo che davvero finalmente si arrivi ad avere una matching tra domanda e offerta che possa sicuramente avere quelle risposte che fino ad oggi purtroppo sia i centri per l'impiego hanno un po' mancato.